salve a tutti amici e amiche qualche giorno fa ho pubblicato un video a proposito del g7 e della situazione sul campo in ucraina in quelle ore e putin ha rilasciato la sua proposta per la pace in ucraina ma come la vede lui almeno già durante il g7 e poi nel summit per la pace in svizzera le reazioni dei politici alla proposta di putin sono state unanime la stragrande maggioranza infatti ha definito quella proposta una capitolazione dell'ucraina è molto molto lontana da qualsiasi compromesso che potesse in qualche modo arrivare ad un tavolo del dialogo dove si chiede all'ucraina di cedere territori che non sono stati neanche conquistati la totale capitolazione del governo e la rinuncia ad entrare a far parte della nato per sempre in ogni caso questi discorsi sulla pace sono stati una piccola novità ma questo significa che siamo vicini alla fine del conflitto o che qualche tipo di negoziati stanno per iniziare non credo proprio anzi proprio questi discorsi hanno evidenziato che siamo davvero molto lontani dalla fine del conflitto e quindi in questo video cercherò di analizzare la proposta di putin e di aggiornarvi sulla situazione sul campo come sempre cari amici per sostenere il mio canale lasciatemi un mi piace è fondamentale e iscrivetevi è un piccolo gesto che non vi costa nulla ma che mi aiuta tantissimo il summit per la pace in svizzera è stato un evento che ha coinvolto i rappresentanti di 100 paesi e giustamente ha attirato molta attenzione e sostegno a livello internazionale mancavano paesi come la cina nonostante l'ucraina sperava che ci fosse ma ha deciso di non parteciparvi la russia non è stata invitata perché secondo berna tanto non avrebbe accettato durante questo summit 80 paesi hanno firmato per l'integrità territoriale dell'ucraina giorgia meloni ha affermato che pace non significa resa e che una soggiogazione sarebbe un pericolo per tutti la conferenza di pace poi ha voluto portare avanti iniziative di sostegno per smontare certe narrazioni di propaganda nessuno può minacciare e mettere a rischio la sicurezza globale con minacce nucleari generare crisi di tutti i tipi anche alimentari e aiutare l'ucraina a difendersi dall'invasione russa significa difendere il sistema di regole che tiene insieme la comunità internazionale e che protegge ogni nazione se l'ucraina non avesse potuto contare sul nostro supporto sarebbe stata costretta ad arrendersi e oggi non saremo qui a discutere le condizioni minime per un negoziato questo è stato in sintesi il discorso di giorgia meloni il comunicato poi approvato riafferma l'integrità territoriale dell'ucraina e sollecita il completo scambio di prigionieri di guerra e il ritorno dei bambini deportati dalla russia nella convinzione che il dialogo tra tutte le parti è necessario per porre fine alla guerra quindi come vediamo il summit non è stato un tentativo di avviare i negoziati quanto piuttosto fornire una sorta di prospettiva su come viene vista dagli altri paesi la situazione attuale su dei binari verso cui il discorsio della pace dovrebbe orientarsi quanto meno in una prospettiva a lungo termine l'ucraina in in quel summit ha proposto la sua versione per ottenere la pace in dieci passaggi che ovviamente prevedono che i russi se ne vadano dai territori occupati piano che putin non accetterà mai lo sappiamo benissimo ma il focus del summit di lucerna non era questo non era approvare la proposta di zeleschi che ma che tanti paesi sostenessero quanto meno il suo obiettivo cioè che la pace in ucraina significa riconoscerla come una nazione che ha diritto alla propria sovranità e integrità nazionale ristabilita all'interno dei propri confini riconosciuti a livello internazionale in questo senso è riuscita a trasmettere che in questo conflitto è la parte lesa ma che è anche la più ragionevole per un discorso verso la pace questo punto non è da sottovalutare nel senso che fino a un paio di mesi fa molti credevano che zeleschi fosse irragionevole e che pretendesse troppo da eventuali negoziazioni che forse gli ucraini dovevano rendersi conto che per ottenere la pace avrebbero dovuto cedere un poco di terra cioè la stampa internazionale ci ha marciato e ha spinto proprio su questi concetti come se da parte della russia ci fossero delle proposte di pace effettive e che l'ucraina non fosse disposta a scendere a compromessi e sono proprio questi i concetti che il summit ha definito come narrazione di propaganda da contrastare definendo invece l'impegno a trovare una via praticabile verso la pace ma appunto come ho detto il giorno prima di questo summit putin ha annunciato la sua versione per un piano di pace e vediamo di cosa si tratta lo ha fatto durante un incontro con il ministero degli esteri dove erano presenti diplomatici ed altri leader del ministero ha fatto questo lungo discorso in cui ha delineato questo piano di pace o requisiti per un cessare il fuoco o un piano per una pace duratura erano un poco tutte e tre le cose in realtà ha citato territori che non sono stati ancora conquistati e questo non è un dettaglio da poco mentre la rinuncia dell'ucraina a entrare a far parte della nato si può integrare come una soluzione più a lungo termine per un accordo più duraturo diverso da un cessate il fuoco in ogni caso putin ha fatto un discorso abbastanza preciso che non riguarda solo un cessato il fuoco temporaneo ma più un piano permanente a lungo termine ovviamente la richiesta è che gli ucraini si ritirino da casa loro e che putin considera russia tutta la crimea la zaporizia donesk e tukhask ha fatto molto scalpore questo discorso perché almeno tre di queste sono in realtà territorio conteso oggi e comunque anche storicamente territorio ucraino ma questo lo vedremo fra poco nel discorso poi ha detto che intere regioni dei loro vecchi confini amministrativi gli appartengono bene adesso vi mostro questa foto giusto per intenderci questa mappa quindi a seguire la logica di putin cosa dovremmo dire noi italiani anche queste regioni facevano parte dei vecchi confini amministrativi dell'impero romano quindi che dobbiamo fare in ogni caso il ragionamento di putin se tagliamo una linea del fronte che attraversa queste ragioni regioni di fatto comprende anche territori che la russia non controlla in questo momento quindi ecco il discorso non considera l'avanzamento delle forze armate sul territorio è come dire non bisogna pensarlo in una logica di conquista attuale cioè dove il suo esercito si trova oggi ma pretende che l'ucraina abbandoni tutta l'aria e dia molto più territorio e molte grandi città rispetto alla situazione attuale anche qui facciamo un esempio che ci aiuta a capire siamo sul piave durante la prima guerra mondiale e l'esercito italiano lotta con i denti e le unghie per non cedere un metro quadrato di terreno agli austriaci un bel giorno francesco giuseppe il sovrano austriaco fa una bella conferenza con i suoi e se ne esce dicendo italiani se volete la pace vi basta ritirarvi dal trentino alto adice friuli venezia giulia veneto lombardia vale d'aosta piemonte e liguria questa è più o meno la proposta che ha putin e che ad oggi con il suo esercito occupa il 18 per cento del territorio ucraino nel suo discorso ne ha reclamato più del 30 per cento come accennato poi ha chiesto la rinuncia a far parte della nato e che tutti i paesi occidentali interrompano immediatamente le sanzioni contro la russia a questo punto mio cugino direbbe cos'altro vuoi una fetta di o vicino all'osso spero si sia capito a parte questa infelice battuta questi sono stati i punti principali del suo discorso trasmessi dai media internazionali che ovviamente poi si sono concentrati soprattutto sulle reazioni dei membri del g7 reazioni a caldo che hanno detto appunto che era un discorso folle ma se andiamo a vedere nel dettaglio il suo discorso è che è stato molto lungo in realtà lui ha continuato a ribadire esattamente quello che chiedeva nel 2022 in termini territoriali la totale smilitarizzazione dell'ucraina e delegittimazione del suo governo per requisiti che renderebbero l'ucraina così debole da non potersi difendere nel caso di un'altra invasione successiva quindi senza un governo magari ecco con un cambio di regime filo russo che renderebbe molto più semplice un'annessione totale e nessuna forza armata in grado di difenderla tutti questi punti in sostanza sono esattamente quelli che aveva espresso quando due anni fa è iniziata l'invasione l'unica differenza è che ora chiede che l'ucraina ceda più del 30 per cento del territorio questa richiesta non era presente nelle richieste originali quando è iniziata l'invasione ed è presumibile che all'epoca i suoi vertici militari avessero convinto putin o viceversa putin avesse convinto i vertici militari per quello che ne sappiamo che la russia avrebbe liberato tutta l'ucraina liberato passatemi il termine in una operazione militare di pochi mesi no tipo un po come fece hitler con la polonia una cosa del genere i piani iniziali della campagna militare prevedevano che l'ucraina sarebbe capitolata nel giro di pochi mesi se non giorni di fronte all'enorme e schiacciante potere militare russo quindi con il controllo di tutta la regione si sarebbe potuta applicare la smilitarizzazione e la sostituzione con un governo filo russo quindi con l'evolversi della situazione le operazioni militari russe non sono andate come sperato come abbiamo visto in questi due anni lo sappiamo è una conquista di tutto il territorio ucraino si è presto trasformata in una campagna senza fine con migliaia di vittime quindi è per questo che putin adesso vuole in un certo senso formalizzare la conquista del territorio occupato fino ad oggi che lui chiama nuova realtà geopolitica è ok tra l'altro bisognerebbe ricordargli che perché ci sia una realtà geopolitica dovrebbero esserci città cittadini lavoro scuole ospedali non una distesa infinita di macerie ma va bene questo è un altro discorso che insomma ma quindi in sostanza cosa ha fatto ha preso le sue richieste originali e ci ha aggiunto il territorio conquistato fino ad oggi né più né meno secondo lui queste richieste evidentemente sono adeguate per punire a sufficienza l'ucraina che ha avuto l'ardire di resistergli fino ad oggi ma ovviamente le reazioni al g7 prima e al summit in svizzera hanno chiarito che putin ha sempre gli stessi obiettivi non è cambiato nulla da quando iniziato l'invasione come ho appena espresso la guerra riguarda essenzialmente il controllo politico e militare di tutta l'ucraina da parte russa non si tratta solo di alcune regioni a est nel suo discorso poi ha spiegato bene a noi occidentali che evidentemente non capiamo nulla di queste cose che la russia sta facendo questo perché si difende dall'imperialismo americano e che l'occidente usa gli ucraini come carne da cannone contro i russi che è l'occidente che alimenta la guerra e che anche nel 2014 durante la rivoluzione ucraina che aveva spodestato il presidente filo russo e causato la caduta del governo quel colpo di stato era stato organizzato da obama e che quando è iniziata la guerra nel 2022 non era sua intenzione annettere tutti questi territori e che sull'ucraina fosse stata ragionevole e avesse dato alla russia alcune garanzie su un corridoio che avrebbe collegato la russia alla crimea allora sarebbe stato felice di scendere a compromessi ma secondo putin poi ci sono stati dei referendum in quelle regioni e la stragrande maggioranza della popolazione ha votato per far parte della russia e dato che lui ha un così grande rispetto per la democrazia e la volontà per la volontà popolare ha deciso di dare al popolo quello che voleva ora dato che tanto spesso si dice che gli americani sono grandi esportatori di democrazia in questo senso la russia ha cercato di fare del suo si può dire che non è da meno e infatti quei cittadini che tanto democraticamente volevano essere russi sono stati premiati a colpi di artiglieria bombe aeree che insomma hanno arato le loro città quindi non credo che ci sia più anima viva in quei paesi e quindi insomma ho l'impressione che i valori di democrazia russa debbano quantomeno prevedere anche dei piani di ripopolazione ovviamente è troppo facile cadere nella tentazione di ridicolizzare il discorso di putin me ne rendo conto definirlo come propaganda o come un maldestro tentativo di raccogliere consensi internazionali insomma è un po me dire che putin soffre di una visione completamente distorta della realtà che evidentemente non si è accorto che il popolo ucraino vorrebbe altro e soprattutto non ha la minima idea della guerra in cui si trova anche è troppo facile senza contare poi che è evidente che non conosce le differenze fra nazionalismo e sovranità nazionale sono proprio due cose un po diverse ma se pensiamo invece anche solo per un attimo che questo è il modo in cui putin vede veramente il mondo che lui crede davvero in queste cose beh allora penso che sia giusto preoccuparsi e prenderlo molto sul serio certo in un certo senso ha esagerato come dire il suo discorso mi ha fatto venire in mente la contrattazione che si fa al banco dei pegni dove chiedi un prezzo assurdo per poi ottenere una cifra ragionevole no anche se un po limite come esempio ma in ogni caso una persona che fa un discorso del genere che espone una visione così distorta da realtà in qualche modo vuole mostrarci come lui vede il mondo perché vuole che comprendiamo anche noi il suo punto di vista e possiamo capire la sua mentalità e l'origine dei suoi discorsi il fatto che intrinsecamente sta ammettendo che non può vincere questa guerra ma vuole comunque spingersi oltre e allo stesso tempo dimostrare che non può accettare compromessi nonostante il fatto che nessuna nazione si è aggredita accetterebbe mai delle condizioni del genere quindi dobbiamo chiederci e qui mi rivolgo a quella piccolissima percentuale di filorussi convinti che ogni tanto si palesano sul mio canale parliamo di meno del 5 per cento fra una marea di persone di buon senso che invece mi seguono chiedo fino a che punto putin considera questa una guerra difensiva davvero nella sua mente la russia è sotto attacco se perderà la guerra in ucraina secondo lui sarà la fine della russia ma soprattutto ha più paura di perdere la guerra in ucraina perché rappresenta un pericolo per la russia o ha più paura lui di perdere la faccia come si dice in gergo politico cioè crede davvero che la russia si trovi in una guerra difensiva e non ha altra scelta che continuare a combattere quindi questo discorso di putin offre la possibilità di dare uno sguardo alla sua visione del mondo per quanto possa sembrare assurda e diversa dalla nostra per questo non dovremmo ridurlo ad una semplice provocazione o propaganda dall'altra parte zeleski non ha fatto altro che sottolineare le richieste avanzate due anni fa in cui chiede la sovranità nazionale e dei propri confini quindi di base entrambe le parti sono ferme sulle proprie posizioni e vogliono la sconfitta dell'altro a questo punto penso che perché possano esistere i presupposti per dei veri negoziati di pace una delle parti dovrà trovarsi in una posizione molto più difficile sul campo di battaglia in modo che senta il bisogno di scendere a compromessi e quindi questo è la situazione di fatto non è più così a favore della russia proprio sul campo di battaglia e quindi questa inversione di tendenza con la ripresa di alcune piccole fette di territorio da parte ucraina secondo me ha fatto suonare qualche campanello di allarme al cremlino per cui siamo all'inizio della campagna estiva i mezzi si muovono molto più velocemente sul campo ma le immagini di questi giorni mostrano un vero e proprio massacro di mezzi russi di nuovo non c'è una guerra lampo schiacciante come volevano i generali russi all'inizio anzi molti miei colleghi che fanno video simili su altri canali non sanno più cosa dire è molto difficile da giustificare la situazione razionalmente per fare un esempio la città di valentar per un anno e mezzo è stata difesa dall'esercito ucraino lungo questa strada e nei campi adiacenti i russi hanno inviato continuamente ondate di mezzi e uomini tutte le volte sono stati respinti e i mezzi distrutti da questi campi provengono le maggiori immagini che circolano su internet e i notiziari quando si vedono carri armati e mezzi esplodere per gli attacchi con droni si parla di qualcosa come 300 veicoli distrutti e migliaia di soldati uccisi e ancora in questi giorni i loro attacchi continuano ora immaginate di essere al posto dei soldati russi vi dicono di avanzare lì in quel campo nonostante sia ormai un cimitero di mezzi distrutti e la situazione per questi ragazzi è anche peggio di quella dei piloti giapponesi della seconda guerra mondiale cioè almeno i kamikaze quei piloti avevano un obiettivo sapevano che quella era la loro missione esso lo aspettavano in un certo senso si preparavano a questo mentre andare avanti così senza senso non si vedeva dalla prima guerra mondiale quantomeno nella guerra di trincea della guerra mondiale seppure c'era un costo enorme di vita umane in cui venivano mandate ondate di soldati contro le mitraietrici se andava bene si avanzava di qualche metro in questo campo non succede neanche quello è un viaggio di sola andata senza conquista da un anno e mezzo e questo insomma prima di schierarsi pro putin o a favore dell'ucraina in ogni caso dovrebbe far riflettere su quanto è sbagliata e senza senso questa guerra senza contare poi che gli osservatori della nato che da mesi osservano il modus operandi dell'esercito e dell'aviazione russa si sono fatti un'idea molto precisa della povertà di idee e di capacità dei generali russi cioè agire così non gli fa certo onore da un punto di vista strategico e umano quindi dimostrano l'atteggiamento peggiore che ci sia in cui un generale deve dimostrare che sta facendo qualcosa e non gliene frega niente delle vite dei suoi soldati gli ucraini stanno ottenendo dei piccoli risultati in questi giorni nella conquista o meglio riconquista di alcuni villaggi o parti di villaggi e porzioni di territorio nella zona di lukiansk dove hanno portato nuovi rinforzi e stanno spingendo da sud mentre pochi chilometri più in là nella cittadina di hopko e spero di averlo detto bene che era stata occupata dai russi entrambe le fonti e notiziari parlano di violenti combattimenti in quest'area casa per casa al momento gli ucraini stanno aggredendo questi due villaggi in attesa di ulteriori rinforzi per un'offensiva più consistente molti poi avranno già sentito della situazione in voyochansk dove gli ucraini hanno isolato qualcosa come 400 soldati russi in una zona industriale questi edifici essendo alti sono un ottimo punto strategico nelle ore precedenti a questo articolo ci sono stati bombardamenti da parte russa che non hanno risparmiato neanche gli edifici occupati dai loro stessi soldati gli ucraini hanno condotto con successo attacchi con droni alle colonne in rifornimento delle retrovie di quest'area che per mesi è sempre stata terreno di violenti scontri e ripetuti tentativi di conquista da parte russa senza successo e ora più che mai sembrano l'obiettivo ancora più lontano da parte loro arrivano alcune immagini di strike condotti dall'aviazione ucraina nell'area dove hanno utilizzato delle jdams delle bombe a guida gps di fabbricazione americana ma voci parlano anche di che gli ucraini stanno convertendo le vecchie fab di costruzione russa con delle ali improvvisate esattamente come fanno i russi un'ampia parte di quest'area vicino alla foresta di sere brians è stata liberata dalle forze ucraine soprattutto perché da parte russa in questa zona è molto difficile a mandare rinforzi questo come ho accennato anche nei video precedenti sarà un enorme problema per i russi non potendosi permettere di sostenere la pressione su un fronte di migliaia di chilometri sarà inevitabile che nei prossimi giorni perderanno molte posizioni con questa conquistate fra l'altro ad un enorme costo di vite umane nei mesi precedenti del resto questo ricorda proprio quello che fecero loro durante la seconda guerra mondiale quando i tedeschi senza più risorse e lontani dalle linee di rifornimento iniziavano a perdere territorio proprio in questo modo ci sono poi immagini che non vi posso mostrare per le regole stringenti di youtube per esempio i russi stanno cercando di mobilitare i soldati su mezzi durante la notte e ovviamente gli ucraini usano droni con telecamere infrarossi ora vi lascio immaginare quello che succede sempre tutte le volte quando un drone colpisce un mezzo pieno di soldati stipati alla bella e meglio sul tetto anche in piena notte i russi d'altro canto stanno costruendo molto velocemente la ferrovia che ho già citato nel video precedente perché è di vitale importanza perché appunto il grosso delle loro unità si muove proprio su rotaia e che sicuramente sarà uno dei prossimi obiettivi ucraini quindi non so come riusciranno a difendere centinaia di chilometri di linea ma è anche vero che le rotaie sono molto facili da riparare la stessa cosa non si può dire per i ma questo è un altro discorso quindi insomma dovranno preoccuparsi molto della vulnerabilità della linea e delle stazioni un'altra cosa che mi ha fatto specie riguarda la perdita dell'antono a 50 uno dei pochi aerei awax disponibili in russia questo aereo fu abbattuto il 23 febbraio 2024 all'epoca gli ucraini dichiararono di averlo abbattuto qualche giorno fa credo ieri il governo russo ha dichiarato che invece si è trattato di fuoco amico e che l'aereo non aveva mai lasciato lo spazio aereo russo e che il responsabile del servizio antiaereo è stato arrestato come un ufficiale russo sia stato in grado di utilizzare un patriot americano partito dall'ucraina è un mistero ma va bene unica cosa che diciamo almeno possiamo dire è dare per certo l'abbattimento di questo a 50 ci sono poi report che parlano di continui sorvoli di droni ucraini su tutta la crimea è parte del caucaso il ponte in crimea è stato chiuso più volte a causa di allarmi aerei quindi saremo sapremo di più nei prossimi giorni se ci sono novità putin tra qualche giorno scusate putin da qualche giorno ha licenziato in blocco una bella quantità di militari e dirigenti del ministero da difesa questa è stata una prassi piuttosto frequente da parte sua non è la prima volta che lo fa infatti sostituisce spesso i vertici militari ovviamente questo non è positivo non lo sarebbe per nessuna nazione non è che così risolvi i gravi problemi logistici di una guerra che si estende su un fronte così vasto altra notizia la rain metal azienda tedesca famosa per i suoi sistemi d'arma e i armati ha aperto una succursale di manutenzione proprio in ucraina il che facilita i lavori di riparazione e manutenzione dei mezzi che fino ad oggi dovevano essere rispediti in polonia e germania per questo almeno finché poi si parla di leopard 1 e di altre unità minori mentre i più moderni leopard 2 dovranno essere trasferiti in germania per le riparazioni in ogni caso le notizie di oggi da parte nella parte del frontest vicino ad advilka dove la pressione russa molto maggiore non sono delle migliori per l'ucraina qui infatti i russi mantengono l'iniziativa e riescono anche ottenere più rinforzi possono contare sul supporto aereo e per gli ucraini è impossibile non perdere posizioni ogni giorno i russi riescono a conquistare piccoli pezzi di territorio come potete vedere ma c'è stato un contrattacco ucraino nella zona di novo sevka inizialmente avvenuto con successo ma vediamo poi che i russi hanno ottenuto rinforzi e ripristinato l'aria parliamo di un campo e di alcuni filari di alberi sostanzialmente ma queste variazioni da un giorno all'altro parlano di una situazione piuttosto dinamica e contesa è chiaro che i russi in quest'area vorrebbero spingersi verso nord ovest perché più avanti c'è uno snodo stradale cruciale ma d'altro canto gli ucraini hanno rinforzato l'aria per bene e questi villaggi ad ampio raggio sono fortificati e questo è tutto ho preso riferimento ad altri canali internazionali per queste notizie come spesso faccio perché chiaramente non mi invento le cose per queste notizie cerco sempre di fare poi controlli incrociati con le maggiori testate giornalistiche ovviamente deep state è uno strumento essenziale per tenervi aggiornati è anche abbastanza preciso per avere indicazioni di massima ma come ho detto anche in altri miei video è molto difficile avere un quadro preciso la situazione è molto complicata in ucraina per quanto riguarda invece le considerazioni sul discorso di putin prima che qualche filo russo mi attacchi su nei commenti e vada di matto lo dico mi sono basato sulle analisi di anders nielsen che credo che sia la persona più moderata è sempre molto equilibrata nelle sue analisi che esiste in rete condivido molto le sue idee ma come dire putin è un argomento molto molto difficile da affrontare e mi fa molta tristezza quando fra noi italiani sopravvive nei suoi confronti una sorta di fanatismo o tifoseria da stadio se vogliamo che non lo so forse deriva dalle influenze politiche di chi lo proponeva come un grande amicone o addirittura un nobel per la pace o chi addirittura indossava le sue magliette con il suo nome mentre altri andavano a riscuotere mazzette insomma pietà per piacere siamo italiani direi di comportarci come italiani almeno una volta e non vi nascondo che prima che iniziasse putin andare di matto e attaccare la giorgia tanti anni fa per un brevissimo periodo penso di qualche minuto in realtà mentre ero distratto anche io ho sperato che con lui la russia potesse aprirsi all'occidente e chissà magari far parte di un grande progetto europeo allargato più grande ma quando vedi la stessa persona venire eletta cinque volte di seguito come dire no qualche cosa non torna detto questo ho finito per oggi non dimenticate di iscrivervi al canale e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate un abbraccio alla prossima